Caro Nogarin, questa mattina, presto, visto un tuo posto in cui annunciavi che la città di Livorno sarebbe stata pronta ad accogliere la nave Aquarius, bloccata dal governo Lega 5 Stelle a largo delle coste italiane e dirottata su Malta. E mi sono detto, però bravo questo Nogarin, hai visto, in nome dei valori di umanità, prende una decisione coraggiosa. E mi sono detto, nonostante siamo di partiti diversi, noi siamo pronti a sostenere Nogarin. Se davvero, e lo dico da Livornese, Livorno si vuole aprire a questa nave, il Partito Democratico gli darà una mano. Dopo pochi minuti ho visto che però hai cancellato questo posto. E cos'è accaduto, mi domando? Dicevi che avresti chiamato Toninelli, il ministro 5 Stelle per le infrastrutture. Forse Toninelli ti ha obbligato a rimuoverlo? Forse qualcuno dalla Casa Legge ti ha fatto arrivare un ordine per non disturbare il governo Lega 5 Stelle? Non avere paura, Nogarin. I valori di umanità ci uniscono al di là dei confini di partito. E noi del Partito Democratico, noi di Livorno, saremmo anche pronti a sostenerti se davvero tu fossi pronto ad andare fino in fondo. Non avere paura, fai davvero quello che hai detto questa mattina e smettila di prendere ordine della Casa Leggio. Perché comunque hai da perdere soltanto le tue catene.